Due giorni di astensione dal lavoro per chiedere più sicurezza e indennizia le famiglie delle vittime del Covid. Per la prima volta i medici di famiglia, definiti da molti eroi durante la pandemia, da altri anello mancante della catena, proclamano sciopero tramite le sigle sindacali SMI e SIMET, il sindacato medici italiani e il sindacato italiano medici del territorio. Lamentano carichi insostenibili, mancanza di tutele, una burocrazia aberrante e non ultimo il mancato indennizzo alle famiglie dei colleghi deceduti per Covid. Uno schiaffo da parte dello Stato, soprattutto agli orfani di quei medici. Due le giornate quindi di protesta, con la chiusura degli ambulatori fissata per martedì 1 e mercoledì 2 marzo e sempre per il 2 marzo con una manifestazione a Roma al Ministero della Salute. Sul piatto una serie di criticità, fra cui la delicata discussione sul contratto nazionale e la richiesta da parte di alcune regioni di far passare i medici di famiglia dal loro regime attuale di liberi professionisti alle dipendenze del Servizio Sanitario Nazionale. Lo stato di agitazione, cui prende le distanze per ora la FIMG, Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, riguarderà circa 4.000 medici di base, continuità assistenziale del 118 e ambulatoriali aderenti alle sigle SMI e SIMET. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha affermato solo poche ore fa come si stia lavorando sulla medicina generale. L'obiettivo è una forte connessione fra medici di famiglia e case di comunità. Ma il nodo è inserirli, come chiede la FP CGL o meno, nel servizio sanitario. Questa l'ambiguità da sciogliere. Ad oggi in Italia sono più di 3 milioni i cittadini senza medico di famiglia. Il problema sta nelle risorse umane da reperire, sottolinea Antonello Santoro, presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Alessandria. Dovremmo usare al meglio le persone che ci sono. In Italia ci sono 6.000 professionisti che non sono né ospedalieri né medici di famiglia, perché non sono entrati né nella via della specializzazione delle università né in quella delle regioni. In questo modo la Guardia Medica potrebbe sopperire alla carenza di medici di medicina generale, così come si potrebbe favorire l'inserimento degli specializzanti negli ospedali. E poi c'è il grande vulnus del numero chiuso alla facoltà di medicina, anche se è stata ampliata la platea dei posti, per non parlare dell'esodo all'estero dei giovani medici italiani, che oltre confine trovano contratti stabili e stipendi migliori.